Tra cena con amici, uscite fuori porta e ricordi lontani, siamo andati a passeggio tra le vie del centro per intervistare i piacentini e per sapere come passeranno il loro capodanno. Cosa fate per il capodanno? Io e lei, e lei e io. Quindi siamo in due, noi abbiamo figli. Vado dal mio ragazzo e niente, lui cucina qualcosa e speriamo sia buono. Ma state con amici o sono voi due? Solo noi due, ma io da soli. Niente di particolare, staremo con gli amici più cari e passeremo una serata in compagnia soprattutto per far divertire i bambini. Andrò al ristorante con degli amici. Quanti siete? Siamo in 7-8, non tanti e poi faremo il brindisi a casa però. Siamo col nostro gruppo spirituale, andiamo in un posto che è nel verde, un casale e siamo 50 persone. Quest'anno a capodanno vado con i miei amici a Bologna, a casa del mio compagno di squadra e siamo lì tra i giorni. Cosa mangiate di buono? State in casa o uscite? Siamo in casa, credo i tortellini bolognesi. Solo cena al ristorante, senza cenone ma con menù alla carta e poi a casa per il brindisi. Tutto vegetariano. Tra gli intervistati anche Francesco Reccine, schiacciatore della Gas Ace Blue Energy. Siamo in squadra perché sono un atleta della Gas Ace e quindi festeggiamo tra gli atleti una serata che il giorno dopo ci alleniamo. Cosa mangiate di buono? Roba tranquilla perché abbiamo la partita breve quindi è roba semplice. Il capodanno più bello che avete fatto? Io ho tempo, andiamo indietro in montagna perché io avevo una bella casa in montagna nella Val di Fassa. E ci ricordiamo tutto.